Sì, buongiorno, sono uno del blog che ha dato vita, sono decisisti, come potete intervenire in questa mesura. Quindi chiaro un blog che è insoddisfatto da riportare il sindaco sulla citabile autonoma di Santa Viviana, perché non ha colto un aspetto essenziale di questa vicenda, un gruppo di cittadini, ovviamente anonio perché è in crescita, si è spinta fino a questo punto perché è superata da un'inerzia totale dell'amministrazione. Quel punto è una vita vendetta perché è tormentato complessico. Lei ha anche, diciamo, non ha tolto l'occasione di transitare dal concetto di pista citabile avanti a quello di consiglia citabile, quello che domandiamo. Allora, lei dice che risponde ai cittadini, noi cerchiamo di contattarla dal tempo della protezione e non abbiamo un posto su questo. Stava anche, diciamo, omesso di sottolineare quel messaggio dell'elettro 8 del giornale, cioè che noi riteniamo inadeguati, per esempio, le persone che hanno la responsabilità della città diretta in questa città perché non hanno proprio l'idea, quindi noi dobbiamo la semplicità, decidiamo un atto di discontinuità sugli organi amministrativi di questa città in questo senso. Infine, noi dobbiamo fare una domanda. È disposto a mandare domani una squadra a fare la citabile, la cozzia citabile, soprattutto la vita bigliana, domani? Grazie, grazie. Innanzitutto, se dice che non ci ha scritto diverse volte nell'ultimo anno e mezzo e non abbiamo mai risposto a questo, mi sorprende e se dopo le do l'email e se me la rimanda le rispondo entro domani mattina. Per quanto riguarda la ciclabile da realizzare questa notte o entro domani, io credo che questo sia un argomento che non può decidere il sindaco da solo, lo deve decidere il sindaco con il suo assessore, capire se questa è una delle priorità che ci possiamo dare, se ci sono le condizioni di sicurezza per poterla realizzare, ma certamente è la direzione nella quale vogliamo andare. Io comprendo che ci sia una insoddisfazione per quello che abbiamo potuto realizzare in questo primo anno, ma se lei ha degli strumenti migliori per rendere più facile la viabilità di trasporto pubblico locale in una città di Roma partendo con una superficie servita che è tre volte quella di Milano e avendo all'inizio del suo mandato zero euro mi dia le idee come fare con zero euro perché io le prendo subito e le utilizzo e così da domani mattina con zero euro ordineremo i ricambi dei nostri autobus, miglioreremo, metteremo più tram, aumenteremo la frequenza sulla Roma Lido, metteremo l'ingresso della porta anteriore, tutto con zero euro e la somma iniziale che avevamo e adesso quest'anno ne abbiamo 140 che sono 400 milioni in meno del bilancio che ci serve. Se lei ci dà qualche suggerimento su come fare per questo io lo prendo subito e lo mettiamo in atto stanotte come ha detto lei. Io devo dare a...